buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito prima di iniziare con un nuovo video vi invito ad iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina buonasera amici e benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito beh oggi volevo creare un breve diciamo tutorial su come iniziare la riproduzione delle degli ondulati di colore dette impropriamente cocorite ragazzi abbiamo preso due gabbie razziere da 45 due beverini ovviamente carta bulinata per i fondi e abbiamo preso due nidi in plastica che dopo vi farò vedere come montarli beh iniziamo con il montaggio delle gatta in una cosa importantissima un po di segatura vi spiegherò dopo a cosa serve allora ragazzi concentriamoci sulla prima gabbia e allora nel primo cassetto andiamo inserire un foglio di carta bulinata così nel cassetto e inseriamo il cassetto poi andiamo a mettere la griglia quella che separerà le feci dal gli uccelli dalle feci praticamente e poi andiamo a inserire l'ultimo sportellino per far aprire il cassetto ci riusciremo amici questo 1 e 2 quindi è tutto tutto a posto la gabbia ok forse forse sarebbe dovuto uscire un po di più sicuramente ok ragazzi poi apriamo la busta con le accessori dove ci sono muove lo mostro il mostro il tutto praticamente abbiamo quattro bacchette ma non so se le utilizzeremo tutti e quattro e quattro mangiatoie quelle lì classiche le napoletane come vengono chiamate ok quindi montiamo le quattro mangiato anzi iniziamo a mettere qualche bacchetta una io opterei per la prima qua solo aspettate un attimo che qui c'è la molla allora cambiamo faccia ecco fatto la prima bacchetta qua più o meno io ne metterei soltanto due in modo da permettere agli animali di aprire almeno un po le ali per saltare da una bacchetta all'altra quindi la seconda la mettiamo più o meno nella stessa posizione vedete amici due bacchetta e penso bastino poi montiamo le due mangiatoie le quattro mangiatoie e mettiamo un po di semi per poco ovviamente io i semi per poco ritmo preferisco utilizzare quelli esclusivamente senza gli estrusi gli estrusi sono quelli quelle quelle parti colorate che trovate molte volte nei semi vedete io opto per i semi naturali quindi andiamo a mettere la prima mangiatoia qui e inseriamo la prima e prima mangiato posizione passiamo alla seconda seconda terza ragazzi io non vi dico allora ora vi svelo il segreto perché ho preso due gabbie non uno perché allora il video io volevo realizzare questo video per alla fine in base alla mia esperienza per rivolgermi a coloro che stanno appena iniziando ad allevare soprattutto gli ondulati di colore beh io ho preso due gabbie perché di solito dice accinge a prendere gli ondulati di colori di solito prende una coppietta e non sa che prendendo una coppetta difficilmente riesce a riprodurre gli ondulati di colore vi dico questo perché in base alla mia esperienza in base comunque siccome ho delle pagine facebook che seguo la specie da 25 anni ho notato che la maggior parte ma anche anche io all'inizio quando ho iniziato a levare ho iniziato anche io con una coppietta e beh vi dico che i risultati erano abbastanza scadenti quindi io vi dico chi inizia deve iniziare da un minimo di due coppie perché io forse mi sono trovato anche una spiegazione perché le cocorite sono animali che in natura vivono in enormi stormi e anzi quasi ovviamente chi le alleva in colonia come me non avrà problemi di riproduzione forse perché le coco si sentono più sicure forse perché vivendo in natura avendo quell'istinto di stormo loro ci sentono più sicure quindi magari con due coppiette se il maschio sente ma l'altro maschio la femmina sente il marco e l'altro maschio quell'altra femmina che nell'altra premia pensano di essere almeno un piccolo gruppo e sicuramente sicuramente avrete più successo nella riproduzione ovviamente poi ci sono le eccezioni che confermano la regola nel senso che magari comprate una sola coppietta e quando è di produzione facilmente ragazzi allora la gabbia è pronta manca l'acqua poi inseriamo i soggetti alla fine l'acqua ecco qua mettiamo un beverino quindi ragazzi ci tocca montare il nido ora vi faccio vedere come si monta il nido e vi do e vi dico perché che abbiamo preso la segatura bene ragazzi il nido guardate è semplicissimo montarlo praticamente nel nello scatolo del nido io non vi dico la marca ma è ben conoscibile allora escono un unico questo pezzo qua che va assemblato in modo aspettate un attimo è uno un po di forza due e tre ok poi escono questi due pezzi uno con il foro che guardate c'è qui c'è questo piccolo incavo quindi il foro va dall'altro lato voglio vi spiego perché il foro poi esce questi qua due sono i gancetti per appendere il nido l'altro è il posatoio praticamente quindi inseriamo nel foro più piccolo finché non si incastra ecco è uno poi inseriamo i gancetti qui ed ovviamente io non dico la marca ma chi conosce un po di accessori per gli uccelli già avrà capito di cosa stiamo parlando e di quale marca stiamo parlando poi alla fine vedete l'ultimo pezzo a questa curva qui che va e quindi è indicativa che va inserito dal lato dove c'è l'incavo date chiuso il nido è pronto e lo mettiamo a aspettare vi parlavo della segatura beh perché la segatura ragazzi io vi ripeto sono solo mie esperienze e le voglio trasmettere a chi si approccia a questo mondo io metto sempre un po di segatura nel nel nido perché come ben sapete le cocorite o gli ondulati di colore loro non preparano il nido loro non sono come i canarini o come diamanti mandarino che gli metti l'aiuta si costruiscono al nido e poi vanno a deporre le uova all'interno no gli ondulati di colore dette impropriamente cocorite loro in natura che fanno costruiscono i loro nidi nei fori che si creano all'interno dei tronchi dei rami e il loro istinto che fa trovano un buco e iniziano a rosicchiare con il becco finché non riescono a formare una farsi una forma per come una sorta di nido e quindi che fanno rosicchiano e buttano giù il materiale ecco ora perché vi consiglio la segatura vi consiglio la segatura perché non potendo costruire il nido come natura mettendo la segatura del fu sul fondo loro è come se si costruissero il nido in natura quindi io vado a inserire un po di segatura non quella sottile ragazzi quella ma un po più robusta di solito questa viene usata anche per le lettiere per i conigli quindi non quella sottile sottile che potrebbe potrebbe danneggiarli perché sono polvere sottili quindi si fa un leggero strato sul fondo del nido guardate e chiudiamo il nido e lo mettiamo alla gamba ragazzi questa segatura sicuramente ma vi dico sicuramente della scaraventata giù dal nido voi non vi preoccupate alle copo serve solo per fargli credere o capire che loro stanno costruendo il nido infatti quando saranno pronte tutta la segatura verrà buttata giù dal nido quindi non fatevi problemi e per loro è come se stessero costruendo il nido io passerei alla seconda gabbia belle operazioni sono le stesse ci vediamo tra dieci minuti mentre preparano la gabbia e poi inseriamo i soggetti nelle gambe a tra poco ragazzi eccoci le due cabbie sono pronte abbiamo pure inserito il nido e adesso andiamo a prendere le due coppiette iniziamo con la prima e 15 eccoci qui ragazzi questa è la prima coppietta inserita maschio e femmine e andiamo a prendere la seconda coppia nei ragazzi la seconda coppia sarà inserita maschio palino per femmina azzurra comune e questi sono le due coppie vi aggiornerò sulle volverse della riproduzione ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale e ovviamente se vogliamo discutere di quello che vi ho detto mi fate sapere nei commenti sotto e magari organizziamo una live su questo intanto volevo salutare gli amici cosimo antonio damiano che hanno insistito per farmi realizzare un video sulle sugli ondulati di colore dietti impropriamente cocorite ci vediamo al prossimo video ciao a giù no anzi non vi dimenticate di farmi sapere nei commenti se vogliamo aprire una discussione in una live al prossimo video ciao a giù